Le anticipazioni di Amici di Maria De Filippi segnalano che si è da poco conclusa una registrazione decisamente turbolenta. Gli allievi, i professori e, Queen Mary, sono tornati nello studio di Canale 5. Ma sembra che domenica 27 novembre 2022 andrà in onda una puntata ricca di tempo. La padrona di casa è apparsa davvero fuori di sé con alcuni degli allievi della scuola. Il motivo? Secondo le anticipazioni riportate da Superguida TV, Maria si è ritrovata costretta a mettere in atto un duro provvedimento disciplinare perché non tutti, tra cantanti e ballerini, partecipano alle pulizie della casetta in cui i professori, la redazione De Filippi stessa hanno sempre chiesto con fermezza agli allievi di rispettare la casa in cui vivono. Ma evidentemente i ragazzi non hanno compreso bene le rete. Maria a inizialmente mostrare ai presenti il filmato che ha raccontato le condizioni della casetta. Che evidenziano le mancate pulizie da parte di alcuni allievi. Maria De Filippi era molto arrabbiata con tutti i ragazzi, si legge. Pare che questo momento abbia occupato gran parte della registrazione. In quanto c'è stata, una lunghissima discussione. Chi non aiuta nelle pulizie in casetta ad amici non si è palesato. La conduttrice ha così anticipato che avrebbe fatto lei, i nomi delle persone che non fanno nulla. Le anticipazioni riportano che, una De Filippi così furiosa non si era vista nemmeno quando quelli della grafica la facevano attendere durante le puntate del serale per dare la classifica di gradimento. La padrona di casa ha sottolineato che si sono formate tre categorie tra gli allievi del talent show. Quelli che fanno anche oltre il dovuto. Quelli che fanno il giusto. E quelli che non fanno davvero mai nulla. Pare che tutti siano rimasti delusi dal fatto che chi è consapevole di non aver mai aiutato in casa nelle faccende domestiche non si è alzato.